buon pomeriggio ragazze e ragazzi come state allora nuovo video blog anche questa stavolta stavolta in camera mia perché non sono uscita in tutto il giorno tranne che per andare così e fare una passeggiata ma non ho voluto riprendere perché non mi sembrava il caso perché non mi sembrava il caso sto dicendo già una fesseria perché volevo solamente riprendere alcune cose persone eccetera ma non era possibile perché insomma c'era stata un po di storia quindi ho evitato allora ragazze mie mi trovate mood pigiama e tutto quanto però ho intenzione di di farne un altro video domani magari domani e no domani sono maddalena non so se riprenderò o meno e oggi invece sono come vedete la location camera mia ma va si già si vede anche dal dallo sfondo dietro che sono in camera mia e niente ragazze se questo tono di voce vi piace meglio così perché almeno riprendo un po le varie stavolta le varie fasi dei miei video blog perché video blog all'aria aperta non è il massimo perché non mi vergogno non lo so perché qualcosa che mi blocca come prima lo facevo quando ero quando ero più piccola di canale adesso che poi ci sto crescendo di canale non riesco più a fare i video blog fatti bene oddio con questo con questo tremolio al telecamera nel massimo allora ragazze mie come state spero che stiate bene allora dunque ho letto disfatto non so se si nota vedete che ho letto disfatto sì perché non l'ho fatto tutto il giorno e non ho detto neanche di farlo adesso perché ragazze per il semplice motivo che sono stanca sono molto stanca non so se si nota sono stanchissima e niente quindi non lo so quindi si vedrà se se farò letto o meno mi sto sempre mettendo questo burro di cacao che non so quando lo vedrete mai però è messo all'incontrario come al solito vabbè non si vedrà mai la mazza perché non ho messo dalla parte del della macchina della fotogramma era posteriore ma frontale quindi lo vedrete all'incontrario e vai che bello comunque questo mio burro di cacao che metto sempre spf 15 la brossam molto buono questo burro di cacao l'ho preso a saponi profumi ed è stra buono l'ho messo lì nella come dire nel mio comodino dalla parte dove dormo io questa qua è la parte dove dormo io e niente ragazze ragazzi miei a perdonate se all'inizio non vi ho detto per esempio si vabbè qua sono piena di burro che non ne posso più non mi schiaccia sempre tutto ma vabbè dettagli e mi stavo dicendo che non mi ricordo più a si se all'inizio non vi ho detto ciao ragazze ragazze mi sono dimenticata ve lo dico adesso che comunque allora buona pascoletta a tutti e tutte e niente quindi buona pascoletta a tutte e tutte oddio cosa vedo di là meglio che non ve lo faccio vedere perché forse l'avete visto così sfuggito ma c'ho le calze per terra vabbè c'ho le calze per terra non dico altro non voglio dilungare di troppo non so che faccia una figura pietosa da stendere un vero pietoso non si sa mai allora ragazze mi adesso vi metto una parte vi incastro al bastone delle selfie cioè no al bastone non al bastone al come dire insomma vi metto al come dire al cavalletto vi aggancio perché io qua non so come ed eccomi qui dunque ragazze mie vi ho incastrato al cavalletto e chiacchieriamo un po' di niente quindi stamattina mi sono sbagliata un po' con mal di testa fortissima ma vabbè dettagli però anzi da qui in avanti anzi stasera vi devo mettere di buona lena a lavare i pennelli perché veramente ne ho vedete sono tutti ciò se li devo lavare perché altrimenti non so se è una bella cosa dirlo li lavo poche volte tutti i giorni però quando li lavo mi ci metto di impegno li lavo veramente molto bene e riescono belli profumati e puliti e ordinati soprattutto già allora ragazze miei ragazzi miei volevo fare il letto insieme a voi ma poi tanto lo dico a continuazione quindi che senso ha non ha nessun senso fare il letto insieme a voi no no vabbè quindi ah chi vuole sapere che cosa ho trovato nell'uovo di pasqua di clio make up allora ci ho trovato questa spazzola qui questa qua vedete perché ho capito che alcune su instagram hanno detto io ho trovato la spazzola anche io ho trovato la spazzola di clio e vedete questa qua con il logo di clio make up e vabbè la consistenza di questa spazzola non potete capire che cosa è è bellissima adoro troppo bella wow vabbè top bellissima con scritto appunto il logo clio make up ed è meravigliosa ragazzi non potete capire voi di quanto è bella già vedete non si vedrà mai comunque ve lo dico io e mi piace un botto volevo vedere anche io la mia benedetta fascia per capelli ma non l'ho trovata quindi ho trovato questa e mi accontento di questa qua quindi top top bellissima bellissima anche questa mi è piaciuta molto e che dire niente ah non ho buttato ho buttato la cartuccia per la carta quella che sosteneva dentro l'uovo ma mi tengo l'immagine fabolosa di clio si questa è bellissima wow top ragazzi è troppo bella non per fare un complimento mieloso a clio make up però veramente non non ce la posso fare mi voglio tenere ricordo di queste belle immagini sorridente smagliante solare di clio make up dai ragazzi non buttatelo questo è troppo bella questa immagine smagliante sorridente top bella e la spazzola ovviamente come è giusto che sia la utilizzerò sotto la doccia o anche quando vado a pettinarmi con i capelli belli umidi bagnati non troppo bagnati ma una cosa via di mezzo per come dire il termine giusto e si per pettinarli con l'olietto che ho io gli ho con l'olietto aiuto mi sto impappinando allora con l'olietto che ho a mia disposizione io per pettinare i capelli perché questo qua penso che faccia una bella un bel lavoretto ai miei capelli spero almeno che non mi faccia male ma che io ho detto che non è così quindi farà bene ai miei capelli mi aiuterà molto a sbrigarli a sbrogliarli per bene e niente se li vede tutta l'ambra da anche c'è quello è un dentifricio che vi devo ancora recensire guardate un po voi non lo so vabbè allora non vi ho messo la luce io non so perché ti ho detto un attimo è luce fu quindi luce fu e ragazze ho voluto mettere la luce perché tra poco qua si sta nuvolando lo so la catastrofe che ne uscirà fuori da questo tempo un po un po così però ho voluto accendere la ring light per vedermi un po meglio vabbè sembra quella favola del del lupo al cappuccetto rosso e dice vabbè sto dicendo castroneria ma la verità per vederti perché gli occhi grandi per vederti meglio perché hai quella bocca grande per magnarti meglio niente a parte scherzi è troppo bello questo questo mio video un po chiacchericcio anche se non mi trucco non fa niente perché vabbè fate conto che stamattina mi sono truccata poi mi sono tornata a distruccare perché avevo gli occhi in fiamme mi stavano bruciando tantissimo e quindi ho detto perché non levare il trucco struccarmi tutta definitivamente e così ho fatto mi sono struccata detersa il viso ovviamente sì ho detto la stessa cosa ma quella che mi sono detersa il viso per due volte levata tutto il trucco in eccesso e poi mi è stata una bella sciacquata asciugata e messa la crema basta tonico tutto quello che è contro l'occhio non ne ho perché ragazze contro l'occhio a me da fastidio non so perché ma perché siete così storte la telecamera non capisco non ne ho idea e niente quindi contro l'occhio mi dicevo non ne metto perché tanto non mi serve che solo metto a fare il contorno occhi a darmi noia quindi vabbè lo potrei anche mettere però certi prodotti sono allergica quindi non li metto non perché sono allergica per fare per dire per dire chissà che fesseria sono allergica perché ho il contorno occhi non lo metto per niente ragazzi come devo dire non mi interessa non lo metto anche perché certi prodotti non li posso mettere perché non li sopporto ragazzi come devo dire non li sopporto e basta già e niente allora qua dentro c'era viene la busta non so se ve l'ho detto la busta che era quella del despar quella del despar dentro vi era l'uovo di pasqua di chileo make up niente ho lavato la mia spugnetta non so voi se la se l'avete oddio vedete questa qui è viola ma se ve la vicina diventa ancora più violetta dire di sì ecco qua della spugna nulla l'ho lavata perché era troppo sozzosa vedete adesso non c'è più nulla è bella pulita e igienizzata lavata tutta bene lavata tranne che pennelli che l'ho riutilizzati di nuovo e sono da lavare e va bene e li laviamo che importanza li laviamo già niente ragazze ragazzi io non voglio far diventare questo video troppo lungo perciò io adesso vi saluto ringrazio dell'ascolto e ci vediamo prossimo video ciao presto un bacio